Era il 1931. Il radiocorriere scriveva che un giorno non tanto lontano potremo radiovedere non è in alcun modo dubbio. Ma da quando si può vedere la radio? La radio ebbe subito una grande diffusione. Ricerche ed esperimenti la portarono ad essere radiovisione. Per la musica fu come entrare nella terza dimensione. Fino ad allora era solo sentita, ma adesso poteva essere perfino televista. Questa unione però durò molto poco. La visione, staccatasi dalla radio, diventerà presto tv e la radio, data sempre più per spacciata, continuerà da sola la propria storia. Storia di strade parallele, quella di radio e televisione, ma pronte a rincontrarsi nel nuovo millennio in cui la radiovisione finalmente ritornerà a vivere. È la rinascita di un vero supermedium. È la vicenda del nuovo che non soppianta il vecchio, ma lo integra. È il culmine di una lunga evoluzione tecnologica. Guardare la radio di Simone Di Biasio. Mimesis Edizioni. Grazie a tutti.